Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento di Arpa Piemonte dedicato alle previsioni meteo del fine settimana per gli amanti escursionisti. Vediamo insieme cosa ci attende nel prossimo fine settimana con l'ausilio delle mappe meteo. Sabato assisteremo al transito di una veloce onda di bassa pressione sulle regioni centrali europee e sulle Alpi che causerà l'indebolimento del campo di alta pressione che ci sta interessando in questi giorni. A ciò sarà associato l'ingresso di aria più fresca in quota che determinerà un aumento dell'instabilità atmosferica ridosso dei rilievi alpini. Sarà quindi una giornata in prevalenza soleggiata ma con cumuli in formazione da crescimento lungo la dorsale alpina nelle ore centrali della giornata. Non si esclude qualche debole temporaneo rovescio sparso su tali zone. La ventilazione sarà in generale debole dai quadranti occidentali e la quota dello zero termico sarà in rialzo fino ai 2400-2500 metri. Le temperature di sabato saranno in calo sia nei valori massimi che nei valori minimi. Domenica invece rimonterà l'alta pressione sul nord-ovest italiano favorendo una bella giornata di sole con solo qualche inocuo cumulo ridosso delle Alpi nelle ore più calde della giornata. La ventilazione continuerà ad essere debole da nord e la quota dello zero termico salirà fino ai 2800 metri. Le temperature saranno gradevoli e tipicamente primaverili ed attese in rialzo nei valori massimi mentre stazionare nei valori minimi. Con questo è tutto. Nell'augurarvi un buon fine settimana vi ricordiamo che potrete consultare gli aggiornamenti meteo sul sito di Erpa Piemonte, sul sito della regione dedicato agli escursionisti e tramite la app Meteo Veta. Buon fine settimana a tutti. Buon fine settimana a tutti.